Cominciamo il 2020 con un'importante novità di prodotto per quanto ci riguarda Puma. Puma si inserisce nel segmento dei crossover degli SUV compatti che rappresenta oramai per quanto riguarda il mercato privato in Italia il 25% delle vendite. Il prodotto importante che si affianca a un prodotto già di successo, l'Ecosport, un SUV compatto con il quale vogliamo aumentare le vendite in questo segmento del 50%. È un prodotto che si inserisce sin dal lancio con tantissime novità. Rispetto ad Ecosport è molto più sportiva, ma è un'automobile che nonostante un look accattivante, molto sportivo, molto agile, aggiunge tantissimo spazio all'interno dell'abitacolo. Spazio sia per i passeggeri, ma tantissimo spazio per le famiglie italiane per quanto riguarda la capacità del bagagliaio. Gli ingegneri sono riusciti ad ampliare, a rendere record la capienza del portabagagli grazie a un sistema molto ingegnoso che permette di sfruttare gli spazi non solo in larghezza e lunghezza, ma soprattutto in profondità. Quindi è stato scavato all'interno del telaio un vero e proprio vano che permette di aumentare la capacità del bagagliaio in profondità. È un'automobile che raccoglie design, che raccoglie tantissima tecnologia all'interno dell'abitacolo, tantissima sicurezza. L'automobile ha raggiunto le 5 stelle Euron Cup, ma è la prima automobile di volume con la quale lanciamo con una motorizzazione elettrificata. Quindi con Puma Mild Hybrid, l'Eco Boost Hybrid puntiamo a fare almeno il 60% delle nostre vendite. È disponibile sin dal lancio e lanceremo con la forma di accessibilità, con l'Idea Ford, l'Eco Boost Hybrid con un anticipo 0,295 euro, che consente di avere la tecnologia dell'ibrido allo stesso prezzo, stessa quota mensile della motorizzazione non Eco Boost. Puma è il primo prodotto di volume elettrificato, ma il 2020 sarà un anno pieno di appuntamenti per quanto riguarda nuovi modelli elettrificati in Italia. Chiuderemo il 2020 con 14 modelli elettrificati. Il secondo appuntamento del 2020 sarà con Kuga, un'automobile completamente nuova che raccoglie la prima automobile che raccoglie tutte le forme di elettrificazione sviluppate dall'azienda. Quindi avremo sia il Mild Hybrid sul diesel, avremo un Full Hybrid e il Plug-in Hybrid. Lanceremo un altro SUV importato dagli Stati Uniti, l'Explorer, in versione Plug-in Hybrid. L'elettrificazione poi si concluderà, con le quali raggiungeremo appunto le 14 modelli nel 2020, introducendo nelle automobili di volume la Fiesta e la Focus, la stessa tecnologia ibrida della Puma, quindi l'Eco Boost Hybrid, e poi concluderemo l'anno alla grande con il lancio della Mach-E, un crossover ispirato a Mustang che sarà totalmente elettrico con un'autonomia fino a 600 km completamente elettriche. Quindi un anno importante di novità di prodotto e novità di elettrificazione che ci permetterà alla fine dell'anno di avere almeno una forma di elettrificazione per ogni modello vetture. L'elettrificazione per quanto riguarda Ford non è solo sulle automobili, ma anche nei veicoli commerciali, dove in Italia siamo leader degli importatori oramai stabilmente da anni, continuiamo a crescere e il marchio Transit è oramai un vero e proprio mandato, abbiamo chiuso il 2019 con 25.000 unità vendute e siamo il primo marchio che ha già nel 2019 introdotto una motorizzazione mild hybrid nel mercato dei veicoli commerciali e saremo assolutamente i primi a lanciare una versione plug-in hybrid nel mercato da una tonnellata, nel custom e nel Transit. Quindi tantissime novità di modelli e tantissime forme di elettrificazione che ci permetteranno di soddisfare un mercato che è in continua richiesta di forme di motorizzazione alternative.